Ionica Nebrus 1-1, avete forse sprecato l'occasione per conquistare la prima vittoria stagionale in casa? Sì, purtroppo è un periodo negativo, qualsiasi errore che facciamo lo paghiamo a caro prezzo. Nel primo tempo forse avete prestato un po' di fianco ai loro attaccanti, nella ripresa vi siete un po' sistemati e avete rischiato anche di vincere un gol annullato pure per voi? No, nel primo tempo abbiamo subito un po' il vento contro sfavore perché sulle loro palle lunghe non abbiamo capito subito le distanze e poi a fine primo tempo con l'aiuto del mister siamo riusciti a leggere la traiettoria della palla e scappare prima ma ripeto, un errore ci è costato calmo. Negli ultimi 15 minuti forse gli avversari si sono accontentati del pareggio, mentre per voi avete spinto tanto ma alla fine non siete riusciti a mettere la palla per la vittoria dentro? Sì, loro sono una squadra organizzata, tutti i giocatori di esperienza, ci abbiamo provato. Loro ci sono abbassati, forse non ne erano più, forse siamo qualcosa in più noi ma non ci siamo riusciti.